Salvo improvvise novità, dal prossimo mese di marzo la Pedrazzoli, storica azienda bassanese, chiuderà i battenti, 40 i posti di lavoro a rischio. Una vicenda che si protrae da tempo e sembra ormai vicina all'epilogo più triste, una vicenda della quale assicura il senatore PD, Giorgio Santini, dovrà occuparsi anche la politica. Noi siamo impegnati assieme alle forze sindacali e le forze istituzionali a fare in modo che rapidamente ci sia una sorta di esercizio provvisorio, cioè ci sia la possibilità di assegnare questa azienda e quindi la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione fino a che non si chiariranno anche tutte le vicende di tipo giuridico legate al passaggio di proprietà che c'è stato nei tempi scorsi. E quindi l'impegno di tutti è che si possa chiarire al più presto la situazione per dare comunque una garanzia ai posti di lavoro. La crisi anche in questa zona ha colpito in maniera pesante. È chiaro che bisogna lavorare tutti insieme per cercare di risolvere queste situazioni. Sono situazioni che hanno dato nel passato veramente tanto lavoro e tanta ricchezza a questo territorio. Oggi bisogna cercare di creare quelle capacità che ci consentono di poter competere con il mondo intero. Secondo Beraldin per evitare che situazioni come la recente crisi economica, che ha coinvolto anche Pedrazzoli si ripetano, serve dare priorità alla formazione e all'istruzione dei giovani. L'Italia è uno degli ultimi paesi in termini di numero di ragazzi laureati, quindi da questo punto di vista bisogna investire, investire molto sulla formazione, sulla ricerca e quindi abbiamo bisogno di ragazzi preparati. Per farlo l'idea di Liberi e Uguali è quello di garantire ai giovani studi universitari gratis. È un servizio che viene pagato già oggi al 75% con la tassazione generale, quindi in sostanza comunque un contributo viene dato, anche se questo contributo delle famiglie viene diminuito, in ogni caso viene pagato comunque dalla fiscalità generale.